buongiorno a tutti ragazzi ben ritrovati in questo chiacchiere da bar qui al bar della psicologia oggi è l'8 di marzo per cui la giornata internazionale della donna per cui mi sembrava carino poter contribuire a questa giornata parlando di un tema abbastanza spinoso nel senso che ha moltissime sfaccettature e non è per niente semplice da affrontare ovvero la sessualità verrà affrontata la sessualità non soltanto in termini di riproduzione atto ma anche aspetti di emotività e la sessualità disabilità e l'assistente sessuale bene partiamo in questo in questo video dicendo una cosa importantissima quando noi cerchiamo di entrare nell'argomento quattro sono gli ambiti con i quali dobbiamo fare i conti il sesso biologico l'identità di genere il ruolo di genere e l'orientamento sessuale non voglio soffermarmi troppo su questi aspetti il primo è il sesso biologico maschio femmina ermafrodita il secondo e il terzo fanno riferimento alle volontà individuali rispetto alle aspettative di natura sociale cioè se sei donna mi aspetto che se sei uomo mi aspetto che sono uomo ma preferisco questo tipo di comportamento che magari è più vicino a lo stereotipo femminile e così via mentre l'orientamento sessuale è una propria preferenza di quello che può essere un partner sessuale di tutte quelle sfaccettature di cui si compone la sessualità ora una cosa fondamentale che io ritengo sia giusta è questa rispettare se stessi e rispettare il prossimo qualunque sia l'orientamento sessuale dall'eterosessuale al pansessuale indipendentemente se c'è questa premessa di base da parte di dei partner del partner così via la sessualità difficilmente può nuocere ci si rispetta si rispetta al prossimo e questa cosa qui deve essere l'elemento di differenziazione e detto ciò proseguiamo andiamo oltre quando noi parliamo di sessualità dobbiamo necessariamente fare riferimento a il tipo anche di organo col quale noi ci relazioniamo nel caso maschile e per fortuna diventa una parentesi molto breve l'uomo può vedere tutta la sua componente genitale perché è esterna il tipo di orgasmo che l'uomo ha è meccanico cioè è funzionale a una stimolazione e a una risposta ci possono essere ovviamente dei casi di impotenza difficoltà e così via che hanno la loro complessità e non devono essere minimamente sminuiti però sotto il profilo tecnico espressamente tecnico l'uomo ha stimolazione erezione penetrazione orgasmo questo tendenzialmente è una linea continua nel caso della donna tutto quello che è il concetto dell'eccitamento del dell'orgasmo provato se provato perché esistono donne che non possono provare l'orgasmo per una questione biologica si aprono moltissime parentesi su questo tipo di argomento volendo fare un quadro generale partiamo da un aspetto importante la donna non può vedere i propri genitali salvo che non abbia ad esempio uno specchietto uno strumento esterno ma tendenzialmente è difficile da posizione eretta avere effettivamente un quadro generale di quella che è la propria fisicità tante volte quando si va dal sessuologo la prima cosa che o quantomeno una delle prime cose che viene fatta è un processo di auto esplorazione l'auto esplorazione ci permette non soltanto di avere una maggior confidenza con il nostro corpo ma di poterci in un certo senso destreggiare in più cose avere una sicurezza maggiore anche con il proprio i propri partner sembra poco non lo è per niente molti aspetti anche di frigidità sia maschile che femminile nascono non soltanto da una poca fiducia in se stessi ma anche da una poca autoconsapevolezza per cui detto questo è importante che così come l'uomo abbia conoscenza della propria fisicità che la donna lo abbia allo stesso modo proseguendo in questa tappa quando noi tendenzialmente parliamo di sessualità rapporto sessuale abbiamo la fase di eccitazione la fase di plateau e la fase orgasmica queste sono le tre tendenzialmente fasi che ci sono durante il rapporto sessuale però il rapporto sessuale non è una cosa meccanica esistono degli aspetti meccanici di sessualità da ambo i sessi tendenzialmente più limitati nella donna più conferma più permeanti nell'uomo ma la sessualità è altro se fosse un mero atto di penetrazione non ci sarebbe stato uno studio così approfondito di questo argomento ed è il motivo per il quale al giorno d'oggi anche la questione degli orientamenti sessuali non è da trascurare e non è da mettere da parte al contrario va presa in considerazione va studiata va approfondita quando noi parliamo di orgasmo femminile e parto dalla fine per poi tornare all'inizio sappiamo che tendenzialmente sono tre le cose che possiamo considerare multi orgasmo assenza di orgasmo oppure un orgasmo paragonabile a quello maschile che però richiede una pausa molto simile chiaramente la terza categoria è molto rara all'interno o quantomeno non è così diffusa l'assenza di orgasmo domanda importante è grave no assolutamente no l'assenza di orgasmo non preclude il fatto di provare piacere vi è un enorme attenzione enorme peso dato all'orgasmo femminile per quale motivo perché non è visibile l'orgasmo maschile lo è vi è un'eiaculazione nel caso della donna non è così e questo un po per la filmografia un po anche per la cultura nella quale siamo inseriti spesso volentieri tende a destabilizzarci l'uomo cerca necessariamente di provocare un orgasmo nella donna e se non lo provochi sei meno uomo cosa barbarica ma che è stata tale fino ma lo è ancora oggi insomma molto molto attuale esistono molti uomini che pensano alla sessualità come un atto di natura agonistica invece no è un atto di maggior coinvolgimento se noi pensiamo che è difficile trovare due donne che si masturbano allo stesso modo da lì dovrebbe aprirci un mondo dire ok se non esiste nessuna donna che si masturba allo stesso modo mentre tendenzialmente la popolazione maschile può avere qualche differenziazione ma il gesto quello è quello resta per quale motivo dovremmo imporci una questione che poi non è presente cioè il voler provocare un orgasmo all'interno della donna prima di tutto l'orgasmo è espressamente per quanto riguarda comunque anche la questione e il piacere soprattutto sono di natura ludica una donna non prova orgasmo non vuol dire che non provi piacere ma all'interno del palinsesto riproduttivo è un gioco non è una cosa fondamentale non sto sminuendo la questione sia ben chiaro sto ponendo le carte in tavola in una buona coppia il partner pensa al bisogno dell'altro non tanto al suo questo è solamente un esempio per farvi capire che una buona sessualità è sicuramente fondamentale anche per la salute e la sopravvivenza stessa della coppia quella parte ludica di confronto di scambio come diceva ferenzi si può avere un un orgasmo piacevole si può avere un certo tipo di compenetrazione solamente con una persona della quale si ha fiducia l'assenza di fiducia è non provoca lo stesso piacere si può avere un partner occasionale perché può succedere è difficile che il partner occasionale possa dare a poi questo dipende dipende sempre da anche in che fase di vita voi siate è difficile che dia lo stesso tipo di piacere lo stesso tipo di ritorno che può dare un partner fisso stabile col quale sia una componente di natura emotiva questo vuole diminuire il sesso occasionale assolutamente no però è un aspetto da prendere in considerazione ci sono delle volte in cui l'insoddisfazione in questo senso è più legata ad una questione di assenza emotiva piuttosto che di atto poco avvezzo a noi non mi trovo bene con quel ragazzo ragazzo con quelle persone ok però io in che condizione mentale sono dunque per tirare le somme fino a qui la sessualità come avete potuto percepire è molto complessa e delle volte è importante non soltanto indagare se stessi ma parlarne col proprio partner una delle cose che spesso si tende a mettere da parte per imbarazzo per vergogna bisogna andare cercare di andare un pochettino oltre ma per un miglioramento personale anche dell'altra persona per cui ci sono delle difficoltà provo dei disagi provo delle dei disturbi non ho queste determinate sensazioni poterne parlare liberamente con il partner vi permette di migliorare quella che la vostra intesa di coppia o la vostra plurale intesa qualunque essa voglia essere ed è molto importante poter parlare poter lasciarsi andare avere fiducia l'orgasmo di per sé così come l'atto sessuale di per sé sono un comportamento che richiede anche un livello di spensieratezza se questo succede prettamente più alle donne che agli uomini se c'è un periodo di estremo stress estremo nervosismo estrema anche sfiducia nel proprio ambiente sociale che cosa può succedere che vi è una poca voglia una poca attivazione una poca lubrificazione cioè ci sono tanti aspetti che vanno poi influire proprio su quella sfera lì perché è una sfera che richiede il suo spazio una volta che la fiducia tra partner si crea tutto questo in un certo senso può essere alleviato e si può al contrario non tanto vivere l'atto sessuale con stress ma viverlo come uno sfogo un rilascio una sensazione di benessere delle volte può capitare che uno dei due partner non abbia magari voglia d'animo ma si sente in difetto ecco tale difetto non deve esserci per questo vi accennavo prima di parlare apertamente perché il partner che non ha voglia il partner che non ha l'erezione l'assenza di lubrificazione la percezione della distanza anche durante durante il rapporto rischiano di provocare più tratti negativi che positivi più frustranti che invece di rilassamento di svuotamento e successivamente riempimento per cui importante parlate se c'è imbarazzo circoscrivete siate tecnici questa è una cosa che noto essere utile anche per infrangere molti tabù ora voglio arrivare a una a un secondo step che è il concetto della disabilità e la sessualità l'assistente sessuale che non è una prostituta piuttosto è una figura che professionalmente parlando aiuta le persone che hanno una disabilità ad avvicinarsi ad una propria autoscoperta tante volte quanto è stata proposta è stata ritenuta appunto alla stregua di una prostituta anche dalle autorità competenti dallo stato bene non è così e sappiate che se avete dubbi a riguardo anche le persone che hanno sindrome di down ritardo mentale e così via sviluppano sicuramente a livello di maturazione un completo apparato riproduttivo per cui la sessualità è sicuramente un ambito salvo in alcuni casi che difficilmente è inibito o viene tagliato e ci sono stati moltissimi casi di famiglie dove le madri sono costrette a praticare masturbazione sui figli per poter adempiere a questa cosa abusi anche all'interno di strutture perché non c'è la possibilità di espressione di questa energia che non è neanche compresa e provoca successivamente anche dei potenziali scandali però ricordiamoci sempre che la sessualità è un diritto proseguendo e concludendo sperando di avervi dato un quadro abbastanza generale e utile anche per quelli che sono i vostri rapporti parliamo di malattie sia sessualmente trasmissibili sia anche di malattie che spesso e volentieri nascono da somatizzazioni è importante essere protetti quando si fa sesso questo è poco ma sicuro ed è importante avere fiducia nel proprio partner ci sono delle volte in cui magari uno dei due ha contratto a causa di relazioni precedenti malattie di qualsiasi tipo fatelo sempre sapere al vostro partner parlatene non vergognatevi perché c'è poco da fare le malattie sessualmente trasmissibili esistono e l'unico modo che noi abbiamo per poter evitare che ci sia un'ulteriore propagazione è parlarne non abbiate paura di dirlo ai vostri genitori nel caso in cui siate minorenni non abbiate paura a farvi controllare questa cosa qua è importante tutta la questione di preservativo maschile preservativo femminile per ora del giorno dopo credo vi sia stata già data da altre sia presente in altri video insomma è una cosa abbastanza più comune però la questione della malattia sessualmente trasmissibile dell'imbarazzo non abbiate imbarazzo perché tanto se è stata contratta il rapporto sessuale è avvenuto prendiamoci anche la responsabilità per rispetto come dicevamo all'inizio anche del corpo del vostro partner esistono poi delle malattie che possono essere di natura più somatica per cui una somatizzazione pensiamo ad esempio alla cosiddetta cistite della luna di miele o alla cistite di per sé o esistono anche malattie come ad esempio la fimosi che non è di natura somatica ma piuttosto è più legata a una sfera biologica cioè nasci con la fimosi bene fatevi controllare non abbiate paura il mito del ginecologo o della ginecologa che spaventano tanto per una questione di tabù no non deve essere un tabù sono delle figure che si sono specializzate per evitare che voi abbiate in futuro una pessima vita sessuale e soprattutto un pessimo rapporto col vostro corpo non c'è niente di negativo sia da maschietti che da femminucce una fimosi è detta in parole spicce e povere un'incapacità per l'uomo sostanzialmente di far scendere la pelle lungo l'asta del pene bene quella cosa lì può provocare che sembra una stupidaggine ma non lo è provoca dolore durante il rapporto e trattiene l'urina spesso volentieri durante la minzione questo vuol dire che voi non potete mai essere completamente puliti per cui tutta una parte anche di pratiche sessuali vengono meno mentre per quanto riguarda la parte invece di cistiti e malattie di natura somatica ritengo e ci sono stati dei momenti in cui quel famoso atto agonistico di cui parlavamo per cui l'uomo che deve necessariamente far raggiungere l'orgasmo alla donna diventa invece un elemento deleterio alla coppia quel tipo di rapporto sessuale lì molto violento potrebbe provocare cose di questo tipo per cui da uomini o donne se volete utilizzare magari degli strumenti erotici e così via cercate sempre di trovare un equilibrio altrimenti possono nascere delle malattie di questo tipo qui che non aiutano assolutamente tante volte la cistite è anche di natura stressogena se il vostro partner non è nella condizione di e voi lo forzate non fate nient'altro che fargli male ultima nozione finale è possibile contrarre malattie sessualmente trasmissibili anche in rapporti di natura omosessuale sia maschile che femminile per cui anche qui proteggetevi bene il video di oggi finisce qui tantissima carne al fuoco tantissimi aspetti e spero che possa in un certo qual modo contribuire a quella che è a quelle che sono dubbi curiosità per cui può estinguere queste cose qui eventualmente se avete domande e dubbi scrivetela nei commenti io vi risponderò volentieri faccio una postilla finale nel caso in cui io sia stato impreciso su alcune cose non abbiate paura a farmelo sapere però mi raccomando questo è un video di infarinatura di introduzione come sempre io vi ringrazio e ad un prossimo video ciao a tutti